Proseguono dopo la pausa estiva i lavori di asfaltatura nel comune di Mondolfo per un importo complessivo di oltre 200 mila euro. Diverse le strade interessate dal cronoprogramma. Le risorse previste nel bilancio 2022, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritiello, sono necessarie per ripristinare il manto usurato di alcuni tratti che necessitavano di interventi anche urgenti. A fine mese o comunque inizio del mese di settembre partiremo appunto con i lavori di asfaltatura che riguarderanno diversi quartieri del territorio, in particolare via San Pasquale, via Gagarin e via Svevo e poi anche via Passo di Rango e alcuni ripristini che riguarderanno alcuni marciapiedi del territorio. Come amministrazione prestiamo sempre grande attenzione appunto per la manutenzione del territorio e soprattutto per il piano asfaltature, questo soprattutto anche per la sicurezza della cittadinanza.